Si trovano ancora nel campo coltivato all'Urago Marinone in provincia di Como, nell'area del Parco Pineta, le centinaia di gomme abbandonate illecitamente ormai oltre dieci giorni fa. A far scattare la denuncia un agricoltore della zona, durante un sopralluogo gli agenti della polizia locale della bassa piana Comasca avevano ritrovato sugli pneumatici alcune etichette con riferimenti di veicoli svizzeri, ticinesi e dei presunti proprietari. Un dettaglio che ha condotto l'attività investigativa alla pista elvetica e che richiederà per questo un'arrogatoria internazionale, come spiegato dal comandante della polizia locale della bassa piana Comasca, Alessandro Casale. Per trovare i responsabili collaboreranno infatti la procura di Como, che ha aperto un fascicolo al momento contro i gnoti, e la polizia federale svizzera. Alle indagini lavora anche l'ufficio federale della Dogana e della sicurezza dei confini, spiega il sito di informazione svizzero RSI. I media elvetici stanno seguendo l'inchiesta e secondo alcune ricostruzioni potrebbero aver partecipato allo smaltimento illegale di rifiuti a cavallo tra Svizzera e Italia, soggetti residenti nei due paesi. Intanto negli scorsi giorni gli agenti della polizia locale hanno pattugliato la zona per verificare ulteriori abbandoni. Il sindaco di Lurago Marinone, Luigi Berlusconi, ha spiegato di attendere l'esito delle indagini per avviare la procedura di smaltimento delle gomme. Sempre Berlusconi, avvertito della presenza degli pneumatici da uno degli agricoltori, aveva dichiarato di essere disposto a coprirne le spese e ha aggiunto serve trovare una motivazione chiara per aggiungere nel bilancio del comune i costi di smaltimento degli pneumatici.